Aldo Quero torna a questo grande appuntamento, questa sfida con la Canavesana che ormai si può dire che è un evento stabile di tutte le stati. Quali sono le emozioni? Quest'anno Canavesana prima in Italia, Quero Chiloiro seconda? Sì, come l'anno scorso si ripete il confronto prima società d'Italia, seconda società d'Italia. La Canavesana negli ultimi tre anni è stata una società campione d'Italia e l'affrontiamo come l'anno scorso in Piazza Immacolata. Quest'anno abbiamo avuto concessione del Castello Aragonese, ringrazio appunto l'ammiraglio Vitiello e tutto l'entourage della Marina Militaria. Sarà sicuramente un grande spettacolo come tutti i trofei città di Taranto, questa è la diciassettesima edizione. Ci sarà spettacolo anche perché combatterà uno dei nostri pupilli Marco Boezio, sfidante ufficiale al titolo italiano dei pesi medi che si terrà a fine anno. Venerdì affronterà Francesco Tartaro sulle otto riprese, sempre della School Box Canavesana. Di contorno ci saranno altri sette match di box olimpica, maschile e femminile. Ringrazio i nostri collaboratori, i nostri dirigenti societari, tra cui Giovanni Semeraro, Gianluca Mongelli, Francesco Galeone e Goffredo Santo Vito. Sono stati tutti vicini all'evento e siamo una società forte da questo punto di vista, abbiamo la dirigenza vicino ai nostri eventi. Questo sarà uno dei primi eventi dell'estate, organizzeremo anche a Castellaneta Marina, a La Terza, a Sava, Torsi, Campomarino. Sarà una grande stagione. Una grande stagione, sì.